Sono andati avanti sino al tardo pomeriggio di ieri nel carcere di Gazi interrogatori delle prime 4 delle 8 persone coinvolte nell'inchiesta sulla compravendita del minore giunto dalla Romania con la madre e il fratello di 19 anni insieme a Vito Caliano e Franco Galatirando. Un viaggio iniziato dalla Romania da Timisoara per la precisione, lì il 23 gennaio si sarebbe recato proprio Galatirando per incontrarsi con Caliano in un albergo ladriatico per cercare una coppia disponibile a cedere il figlio. Mentre i due rumeni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, i due italiani hanno respinto le accuse offrendo una propria spiegazione dei fatti in contrasto con quanto ricostruito dalla Didia di Messina. In pratica i due hanno sostenuto di aver solo fatto da tramite tra la famiglia romena e quella di Castellumberto che li aveva ingaggiati per un trasferimento regolare in Sicilia di tutto il nucleo familiare. A commissionare questo servizio, retribuendolo 30.000 euro, Lorella e Calogero, lei 48 anni, lui 57 anni, benestanti grazie ad anni di lavoro in Svizzera. La coppia di Sfaranda, una contrada di Castellumberto, da anni viveva soprattutto in terra elvetica dove gestiva alcuni locali. Inoltre, proprietaria di diversi appartamenti. Due persone normali e per bene, li descrivono tutti in paese. Avevano già una figlia di 19 anni con problemi di autismo, ma soprattutto l'enorme desiderio di far crescere la famiglia. Per questo, ed è il sospetto dei carabinieri che hanno ricostruito l'indagine, hanno pianificato tutto a partire dal 2008. In quella data, infatti, la coppia denunciò in municipio la nascita di un figlio partorito in casa. Di quel bambino, però, non vi è alcuna traccia, neppure alcuni parenti lo avrebbero mai visto e gli investigatori sono convinti che non sia mai nato. A distanza di sette anni, quindi, è raggiunto il momento di chiudere il cerchio, acquistando un ragazzino dell'età giusta. Secondo la ricostruzione dei militari, che tenevano sotto controllo il telefono dei Galatirando per altri motivi, la coppia si rivolse a Vincenzo Nibali, che a sua volta contattò Aldo Galatirando, pregiudicato di Tortorici. Il 17 gennaio Nibali si recò in casa di quest'ultimo per consegnargli i 30.000 euro della coppia per trovare il bambino giusto. Il cugino Franco, amico personale di Cariano, si è dunque recato in Romania e nell'hotel di Timisoara si è chiusa la trattativa. Poi il volo fino a Firenze ed il traghettamento per arrivare a Castellumberto, interrotto dagli uomini della DDA di Messina, allo sbarco.